Sono giorni importanti, quelli prima di Natale per Francavilla al Mare Sindaco, perché il 15 dicembre ci sarà l'inaugurazione del nuovo Palazzo Sirena e poi state proseguendo con i lavori allo stadio Valle Anzuca. Siamo arrivati all'inaugurazione del Palazzo Sirena, un palazzo che risorge dalle ceneri. Questa opera architettonica è stata dichiarata di elevato valore culturale, un'opera progettata da Mosericci, un pronipote di Francesco Paolo Michetti, che ora campeggia all'interno della Piazza Sirena, che sarà ancora da ristrutturare. La piazza invece, per quanto riguarda il Palazzo Sirena, contiene un auditorium sirena perfettamente rinnovato, abbiamo speso oltre 500 mila euro per farlo e il 15 questa struttura apre le sue porte ai cittadini di Francavilla e non solo. Diventerà il nostro polo culturale, sarà un centro congressi, ci si potrà fare del teatro, della musica, del cinema, 300 posti a sedere che rilanceranno l'economia del centro città, esattamente come avevamo immaginato. A proposito di stadio, invece i tifosi del Francavilla vogliono sapere, Sindaco, quando il Francavilla potrà tornare a giocare le gare casalinghe nel suo stadio? Nella prima giornata utile, questo lo prometto, pace fatta con il presidente Gilberto Candeloro, che è una grande persona, che ci ha promesso che porterà la squadra, vuole fare calcio, lo vuole fare in maniera importante, lo vuole fare a Francavilla. Ha promesso che farà di tutto per portare la squadra nei professionisti e quindi noi ci metteremo il nostro come amministrazione, gli staremo vicini, anche qui giorno dopo giorno. Anzi il 15 forse sarà l'occasione anche per invitare il presidente Candeloro a questa nuova inaugurazione nella nostra città, perché lui deve diventare necessariamente un nostro cittadino onorario. Già lo è, in definitiva. Grazie.